Blitz dei NAS nelle messe scolastiche della regione, alimenti sequestrati, persone segnalate all'autorità giudiziaria ed amministrativa e sanzioni elevate per 15.000 euro e questo il bilancio di una serie di controlli che i carabinieri del NAS Abruzzo di Pescara, coordinati dal Maggiore Domenico Candelli, hanno eseguito nelle ultime ore nelle messe scolastiche e negli istituti dell'infanzia, primari e secondari, sia pubblici che privati in tutto Abruzzo. Sono state 11 in totale le strutture ispezionate nelle province di Pescara, Chieti e L'Aquila. I nostri controlli partono con l'inizio dell'anno scolastico ma si protraggono per l'anno scolastico. L'impulso dato in queste prime settimane della scuola è appunto dovuto a dare immediata risposta alle numerose segnalazioni che ci sono prevenute. Ovviamente a fronte di segnalazioni che poi venivano riscontrate con effettive criticità ne abbiamo avute anche altre che non erano poi riscontrate da problemi. Questo comunque ha conforto anche di chi ci ha chiamato e di chi ha fiducia in noi. Le sanzioni hanno riguardato essenzialmente tutte le problematiche correlate alla sicurezza alimentare, quindi dalle mancate adozioni delle procedure di autocontrollo alla mancata attuazione di procedure di ritracciabilità e in alcuni casi hanno riguardato strutture che non erano autorizzate o comunque avevano degli ambienti che non rientravano nei locali autorizzati. Da questo punto di vista la previsione legislativa al riguardo vede delle sanzioni che partono da un minimo di 1000 euro fino ad arrivare a 3000 euro per quanto riguarda l'assenza di autorizzazione. I nostri controlli oltre a verificare quelle che sono le condizioni igienico-sanitarie per quanto riguarda l'alimentazione e polarizziamo questi controlli anche per ciò che riguardano le strutture, quindi carenze strutturali, condizioni di igienicità all'interno di servizi igienici ma anche in particolar modo nelle aule.